Femminicidio a Fano, strangola la moglie e poi tenta di togliersi la vita. Rapporto violenza di genere in consiglio regionale, crescono le denunce nelle marche. Sindacati, patto coi comuni sulla contrattazione sociale. A Pesaro sosta più smart all'insegna di nuove tecnologie. Sport, altra sconfitta per la vis, classifica sempre più critica. Buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Ben ritrovati sul canale 80, ben ritrovati su Rossini News. Il nostro telegiornale che in questa edizione di martedì 21 novembre apriamo con la notizia di uno sconcertante femminicidio. Quello avvenuto ieri sera a Fano dove un uomo di 70 anni ha strangolato la moglie malata di 66 anni e poi ha tentato in vano di suicidarsi. Il servizio. Uccide la moglie malata strangolando la mani nude e poi tenta, senza riuscirci, di suicidarsi ingerendo medicinali. Questa volta ad essere vittima della furia omicida intrafamiliare è stata Rita Talamelli, 66 anni, uccisa dal marito Angelo Spuggiti di 70 anni, in una villa e taschiera di via Montefeltro, nelle periferie afanese del quartiere Poderino. A trovare la donna esanime in camera da letto e il marito assassino ancora in stato di coscienza, è stato ieri sera il figlio della coppia arrivato attorno alle 20.30 nell'abitazione, preoccupato dalle mancate risposte al telefono dei genitori. Si è però trovato al cospetto della più sconcertante delle scene e avvertito subito polizia e 118. I medici però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna e trasferire Angelo Spuggiti all'ospedale Santa Croce, dove tuttora è ricoverato piantonato con l'accusa di omicidio volontario e dove non risulterebbe in pericolo di vita. Rita Talamelli invece era morta da alcune ore rispetto al momento del suo ritrovamento. Bisognerà però attendere l'esito dell'autopsia per chiarire un altro sconcertante femminicidio avvenuto a pochi giorni dal caso di Giulia Cecchettine che ha scolso l'Italia e in vista del 25 novembre, giornata internazionale della violenza sulle donne. Una giornata alla quale si arriverà col quarto femminicidio nelle Marche di questo 2023, il secondo a Fano a distanza di un anno dall'omicidio di Anastasia Lasceri. Angelo Spuggiti, ora pensionato, era noto a Fano per essere stato il titolare della pizzeria da Angelo di Cucurano. Sembra che la moglie soffrisse da tempo di problemi psichiatrici aggravatisi nell'ultimo periodo. Questo il contorno familiare di una complessa esasperazione che ha portato a un omicidio il cui momento però resta tuttora al vaglio degli inquirenti. E l'omicidio di Rita Talamelli arriva proprio nei giorni in cui tutta Italia è rimasta sconvolta dal caso di Giulia Cecchettine e proprio anche nei giorni in cui pure nella nostra provincia si stanno moltiplicando le iniziative in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne prevista il 25 novembre. Iniziativa è presentata anche oggi ad esempio a Confcommercio Marche Nord con l'inevitabile sconforto della notizia arrivata a Fano poche ore prima. Parlare di violenza di genere ma soprattutto parlare di rinascita da quell'abisso in cui si finisce una volta vittime di questi crimini. E' questo il focus su cui Confcommercio Marche Nord, Terzi Aerodonna e Gensnova si concentreranno venerdì 24 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una mattinata di convegno nella sede pesaresi di Confcommercio dal titolo Riesistiamo. Convegno che spazierà dalle testimonianze di violenza ma anche di rinascita di Melissa Scoccimarro, Patrizia Bellucci e Ambra Sansolini per poi analizzare strumenti di prevenzione come l'indipendenza economica e l'autodifesa sul luogo di lavoro con Barbara Strapazzini e Remo Grassetti. Nella conferenza di venerdì portiamo la testimonianza di due donne che hanno subito violenza tra cui una che abbiamo seguito noi che ha subito una violenza sessuale a Rimini e vogliamo far vedere la rinascita perché l'abbiamo seguita personalmente non avendo orari, stando dietro alla vittima, Elena nella parte legale, dopo abbiamo affiliato una psicologa, ma di non lasciarle sole specialmente dal momento che gli si dice di denunciare perché a volte le donne hanno paura e a volte proprio quando denunciano rimangono sole e lì sono nell'attimo che hanno paura di tutto. Ha il focus non tanto sulla violenza subita, anche se quella purtroppo è reale, quanto sulla loro rinascita, infatti il titolo del convegno è Riesistenza, cioè come anche dopo la denuncia è possibile rinascere e ricostruire la propria vita. Vogliamo parlare di educazione finanziaria e abbiamo evitato Barbara Strapazzini di VdB Banca che è un'esperta proprio di educazione finanziaria e tra l'altro vi anticipo che il secondo argomento è la prevenzione dei conflitti di gestione dalle situazioni critiche e di autodifesa nei luoghi di lavoro. Averrà a parlare Remo Grassetti di Mastery. E perché dopo l'ultimo femminicidio di ieri, quindi siamo arrivati a 106 vittime nel 2003, è d'obbligo parlarne, è d'obbligo riuscire a comunicare al meglio quali siano le formule preventive ma anche post denuncia da poter attuare per stare accanto a queste donne e perché non vogliamo ridurci al minuto di silenzio nelle aule, nei posti pubblici, in commercio. Noi vorremmo fare dei minuti di chiasso, dei minuti di parole, minuti nei quali dobbiamo riuscire veramente a trasmettere fiducia verso quelle persone che denunciano perché l'invito è denunciare quando sobbiamo delle violenze. Ma anche l'aspetto preventivo perché appena riconosciamo i primi sintomi dobbiamo essere capaci di cambiare rotta prima che tutto diventi in realtà irrecuperabile. E proprio oggi nel Consiglio regionale è stato anche discusso l'annuale Rapporto sulla violenza di genere nelle Marche. Un rapporto che denota dati che dicono come continuano a crescere le denunce e gli accessi ai centri antiviolenza regionali. Ci troviamo qui come tutti gli anni per discutere e fare una riflessione in occasione proprio del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I dati messi insieme proprio dall'Istat, presi dalle varie agenzie importanti che si occupano di violenza di genere, cioè il numero 1522, che è il numero attivo 24 ore su 24, i centri antiviolenza, quindi i CAV, le case rifugio, tutte le varie agenzie che sono magari il pronto soccorso o le forze dell'ordine, sono davvero sconfortanti. Un aumento incredibile proprio di ogni forma di violenza, che non è soltanto quella fisica che si vede quindi perché lascia i lividi, ma anche psicologica, moltissimo, quindi diffamazioni, ingiurie, discriminazioni varie. Poi la punta dell'iceberg e i femminicidi. Il numero 106 è il numero delle donne uccise dall'inizio di quest'anno e 5 sono le donne marchigiane che hanno perso la loro vita da parte del proprio compagno e del proprio marito. È incrementato il numero delle donne che sono state accolte dalle case rifugio, 143 sono le donne che sono state prese in carico, 75 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza e complessivamente 806 donne che nel 2022 hanno avuto il coraggio di denunciare. Un grande lavoro fatto dai centri antiviolenza, dai centri di rifugio e tutte le strutture territoriali dislocate a livello provinciale, ma sicuramente un'analisi approfondita sarà sicuramente utile perché i dati comunque sia parlano di un aumento, i dati più significativi sono legati ai centri di antiviolenza che hanno 704 ingressi nell'anno e quindi l'anno precedente. Chiaramente questo è un dato sicuramente preoccupante perché comunque in aumento e soprattutto se lo rapportiamo ai dati del 2012 dove erano 300, questo fa capire che è un dato in continua crescita, dobbiamo capire anche se le attività che mettiamo a terra sono sufficienti, sono congrue ai risultati che ci siamo prefissati. E cambiamo argomento. I sindacati CGL, CISL e UIL della provincia di Pesaro Urbino hanno presentato oggi un nuovo documento condiviso per quel che riguarda la contrattazione sociale con gli enti locali in vista dei bilanci preventivi per il 2024. Vediamo. CGL, CISL e UIL hanno presentato oggi nella sede pesarese della CISL un documento propedeutico alle imminenti approvazioni dei bilanci di previsioni delle amministrazioni locali che tengano conto di linee di confronto per la contrattazione sociale in vista del 2024. L'impegno è quello di condividere con le amministrazioni misure utili allo sviluppo di politiche di welfare che contrastino disagio sociale e povertà emergenti. Un documento che accende un focus prioritario sulle politiche abitative per poi spaziare a quelle educative e occupazionali. temi da condividere che si allargano anche a disagio giovanile, violenze ed immigrazione. Documento di linee guida per il confronto con le amministrazioni comunali su bilanci di previsione. Perché per noi è importante condividere appunto con le amministrazioni pubbliche e con tutti i cittadini questo percorso. Perché per noi mettere al centro il welfare, il lavoro, temi che sono a difesa dei fasci più debili che rappresentiamo nei bilanci di previsione per cui trovare risorse adeguate per dare risposta ai bisogni di questi cittadini per noi è particolarmente importante. Per cui cerchiamo appunto in questo documento che invieremo appunto a tutte le amministrazioni comunali per cercare di trovare un momento di condivisione di dare le risposte ai bisogni che in questo momento sono più urgenti per tutti i cittadini. Faccio un esempio a caso. Le politiche abitative per noi sono particolarmente importanti. Abbiamo situazioni di disagio abitativo e questo secondo noi è uno degli elementi più importanti da affrontare fin da subito. Per cui ecco, speriamo che appunto nella discussione dei bilanci di previsione possono essere trovate le risorse che diano risposte appunto a questi bisogni. Quest'anno abbiamo una difficoltà inedita che è data dal fatto che il fondo affitti non è stato finanziato dal livello nazionale. Questo porta necessariamente i comuni a dover fare uno sforzo maggiore per poter dare una risposta a quelle persone che hanno redditi bassi e fanno fatica a pagare gli affitti per cui un sostegno anche di qualche centinaio di euro è importante per poter far quadrare i conti. Riteniamo che questa cosa deve essere assolutamente superata, rilanciata a livello nazionale e a livello regionale debba essere corretta con un investimento di risorse perché quelle appunto vanno alle fasce più basse della popolazione. Poi c'è una riflessione più complessiva su come si possano costruire delle politiche che tengano insieme tutte le situazioni di fragilità e di disagio che si vivono sui livelli territoriali. Il nostro documento è proprio incentrato sulla necessità di trovare dei momenti di condivisione con gli enti locali per capire quali sono le priorità di quei singoli comuni, di quelle singole popolazioni. Naturalmente il documento è unico ma quando poi noi andiamo a discutere nei vari comuni lì andiamo a verificare qual è la popolazione a cui dobbiamo dare maggiore attenzione partendo dal presupposto che purtroppo spesso le risorse sono poche e non sufficienti rispetto a una popolazione in disagio economico crescente. Furto sventato all'Atleti Club di Pesaro nella notte fra domenica e lunedì. Alla centrale operativa della Vigilar a lune 55 è infatti arrivata una segnalazione di allarme proveniente dall'impianto installato presso la palestra di via Respighi. Dai fotogrammi ricevuti dai sensori è stato notato un ladro solitario ed è stato subito allertato il pronto intervento vigilar i carabinieri e proprietari dell'impianto sportivo. Pochi minuti dopo l'autovigilar era già sul posto ma il malvivente era scappato prendendo solo pochi spiccioli. Invece questa mattina nel Duomo di Pesaro si è svolta la Santa Messa in onore della Virgo Fidelis la patrona dell'Arma dei Carabinieri una messa celebrata dal vicario generale dell'Arcidiocesi di Pesaro Don Marco Di Giorgio. Oltre al comandante provinciale dei Carabinieri Gianluigi Cirtoli e al prefetto Emanuele Savera Greco erano presenti i vertici provinciali di tutte le forze di polizia le principali autorità civili e militari del capoluogo oltre a rappresentanze di tutti i comandi del territorio. Gli assessori comunali di Pesaro Riccardo Pozzi e Daniele Vimine annunciano l'imminente trasformazione in residenze per artisti e studenti degli appartamenti di Via Cattaneo 65. L'accelerazione di oggi è data dall'approvazione in giunta dei progetti di fattibilità finanziati dal Pinqua. Si tratta di un totale di 822 mila euro di interventi che rigenereranno due appartamenti in Via Cattaneo restituendo sette posti letto alla collettività. Ve ne avevamo parlato anche ieri e oggi è arrivato pure il dato ufficiale sui risultati nelle marche della ventisettesima giornata della colletta alimentare. Sono state raccolte in regione 234 tonnellate di alimenti non deperibili con un 6% in più rispetto all'anno precedente. In particolare la provincia di Pesaro Urbino ha prodotto la raccolta più consistente con 64 tonnellate di prodotti destinati agli enti caritatevoli del territorio. Ed ora ci occupiamo dell'arrivo di novità tecnologiche per quello che riguardano la sosta a Pesaro dai parcometri fino agli accessi alla ZTL. La città si prepara ad accogliere i turisti come Pesaro città italiana della cultura e quindi l'applicazione della sosta parlerà oggi le diverse lingue per permettere a tutti i turisti che verranno a trovare la nostra città durante la prossima stagione soprattutto anche in diverse lingue. Questa è la prima delle applicazioni perché la seconda è la possibilità di prorogare inserendo la targate verso i parcometri da qualsiasi parcometro anche la durata della sosta. E il terzo è un elemento molto importante è un'applicazione B-Move presente in più di 180 città d'Italia che verrà applicata anche al nostro parcheggio e questo ci darà la possibilità di prorogare facilmente da qualsiasi luogo siamo e ancora di più permetterà a tutti quei commercianti a quelle persone che entreranno nella zona traffico limitato di poter fruire del permesso per entrare con un semplice click quindi senza file e senza attese. Questa innovazione che è stata il risultato di un investimento di più di 100.000 euro di Pesaro Parcheggi sarà fondamentale per accogliere i turisti in una stagione importantissima come quella che ci aspetta. Con questa applicazione evitiamo quegli spiacevoli episodi e non sono pochi che magari tardi di 10 minuti un quarto d'ora la ricarica della sosta a pagamento e ti arriva una sanzione quindi a fronte dei 50 centesimi dell'euro che devi mettere per evitare la multa devi magari farti 500 metri a piedi per ritornare a cercare la macchina e integrare il grattino. Con questa applicazione si può fare utilizzando il parchimetro più vicino quindi senza muoversi più di tanto e dobbiamo essere al passo con la tecnologia e attraverso questo strumento riusciamo ad esserlo. Importante sarà soprattutto anche l'utilizzo di B-Move per l'accesso alla ZTL e stiamo lavorando per altri 8 nuovi varchi nella zona traffico limitato e si eviteranno attraverso l'utilizzo di questa applicazione le file al comando della polizia locale che magari caratterizzavano molti utenti nei mesi e negli anni passati. E passiamo allo sport Beffarda sconfitta ieri sera per la Vispesero nel posticipo della 14esima giornata di Serie C. Vischi ha perso 2-1 al Benelli contro la Torres cocapolista del Girone assieme al Cesena. Una sconfitta arrivata al 94esimo dopo che la Visse aveva chiuso il primo tempo in vantaggio con un gol del semidebuttante Nina. Calata vistosamente la Visse della ripresa la Torres ne ha approfittato pareggiando con Fischnaller al 66esimo Fischnaller che ha poi trovato la doppietta all'ultimo respiro. Un 2-1 che affosso ulteriormente la Visse in classifica dentro la zona play-out in un terzetto a pari punti fra terz'ultimo e quint'ultimo posto condivisi con Spal e Sestri Levante. Un'altra notizia di sport con la quale concludiamo il nostro telegiornale è quella che riguarda la polisportiva Bottega Società di Vallefoglia che negli ultimi anni si è ampliata dal volley al calcio e che nei giorni scorsi ha presentato le sue squadre e i suoi tesserati. La giornata di oggi l'abbiamo dedicata alla presentazione delle squadre di serie C maschile e femminile che disputano il campo teatro di giornale di pallavolo e alla squadra di terza categoria calcio che è tre anni che si è aggregata il terzo anno che si è aggregata con noi. Quest'anno pensavamo di poterlo fare anche in palestra una presentazione di tutta la società ma i numeri sono diventati importanti e non riusciamo ad avere lo spazio necessario. È stato un bel momento perché comunque pur rappresentando sono le squadre che rappresentano un po' il vertice dell'attività sportiva nostra e quindi però poi rappresentano tutto il movimento che abbiamo creato e che stiamo portando avanti. Come dicevo prima nella presentazione facciamo 15 campionati tra giovanili e di categoria sia maschili che femminili e quindi questo chiaramente ci impegna molto e fortunatamente il comune tempo fa ha realizzato un'altra palestra e quindi abbiamo disponibilità anche degli impianti per poter lavorare perché comunque con questi numeri un impianto solo non sarebbe sufficiente. È stato per noi un evento importante perché ci sono ragazze e ragazzi che giocano con grande passione con spirito di abnegazione e che vincono anche insomma il 6dc femminile e maschile la terza categoria del calcio sono centinaia e centinaia delle ragazze e ragazzi che sono impegnati nello sport nella crescita sociale e poi insomma promuovono anche la città di Vallefoglia dal punto di vista turistico della conoscenza nelle marche la polisportiva bottega è una società storica importante del nostro territorio ci maschile ci femminile e da pochi anni la polisportiva è anche una squadra di calcio di terza categoria che sono tre anni che milita in questo campionato quindi è stato un vero piacere presentare le squadre sono squadre importanti che sono partite anche con discreti risultati però mi piace sottolineare l'importante lavoro sociale che svolge la società insomma sono circa 250 i ragazzini iscritti ai corsi giovanili di pallavolo e quindi un ringraziamento a loro le famiglie e a tutti gli operatori della società ai collaboratori del presidente Ricci che insomma tengono sempre impegnate e piene le nostre strutture loro gestiscono come società sportiva la palestra di Morciola storica palestra palestra Francesca Ricci e la nuova palestra di bottega Palafoglia e si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News ma continuano gli spazi informativi sulla nostra emittente a cominciare dalla prima serata che questa sera è dedicata alla prima puntata di un nuovo appuntamento fisso del martedì su Rossini TV ve l'abbiamo presentato ieri all'interno del nostro telegiornale parte amministrando il nostro format dedicato alla marcia d'avvicinamento verso le elezioni 2024 lo conducono Antonio Astuti e Luigi Benelli un viaggio alla conoscenza dell'andamento politico nel nostro territorio in vista delle prossime elezioni di giugno prima puntata con ospiti dedicati al comune di Pesaro con i consiglieri comunali della Lega Dario Andreolli e del Partito Democratico Giampiero Bellucci appuntamento come detto questa sera alle 21.20 per amministrando che vi terrà compagnia tutti i martedì sempre alle 21.20 e poi ve l'abbiamo data ieri la notizia della morte di Franco Fiorucci artista dell'acquarello che ha cresciuto generazioni di allievi nel nostro territorio oltre ad essere protagonista di grandi mostre a livello internazionale Franco Fiorucci è venuto a mancare nella notte tra domenica e lunedì un artista alla quale Rossini TV aveva dedicato un documento proprio sulla sua biografia ve lo riproporremo questa sera Franco Fiorucci si racconta alle 21.50 e poi naturalmente l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia in diretta alle 7.20 dal lunedì al sabato e si chiude invece qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e vi ringrazio e vi ringrazio